Allora come dice Damiano David, buonasera signori e signori e benvenuti alla quarta edizione del torneo di disputa classica, gara di dibattito tra squadre su temi relativi al mondo antico. Buonasera da parte mia, io sono Massimo Manca, da parte di Elisabetta Berardi e Marcella Guglielmo, siamo gli organizzatori di questo torneo. Alla mia sinistra troverete la squadra dei Delfini Pitici, del liceo Peano di Tortona, alla mia destra troverete la squadra da Dictis di Valle Porrem del liceo d'Azeglio di Torino. Il Festival del Classico si sta svolgendo in questi giorni con un ricchissimo programma che spero abbiate seguito o comunque siete ancora in tempo a seguire, ha sempre dato molto valore a questa iniziativa riservando fin dalla prima edizione uno spazio apposito. Mi corrono, mi corre d'obbligo fare dei ringraziamenti molto sentiti perché il progetto è stato realizzato dalla Fondazione Circolo dei Lettori che ci ospita in questa bellissima sala col sostegno della Fondazione CRT in collaborazione con l'Accademia delle Scienze che invece ci ospiterà nella finale di domani per la squadra che vincerà, la Rete del Piemonte di dibattito e cittadinanza, l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte che ci ha sostenuti, che ringraziamo nella persona del Direttore Regionale, il Dottor Fabrizio Manca, non siamo parenti, la Dirigente Dottoressa Serena Caruso Bavisotto e la Professoressa Laura Morello. A dimostrare la dignità di questa iniziativa ricordiamo peraltro che il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Torino ha concesso il gratuito patrocinio. All'iniziativa lo ringraziamo e grazie anche alla Reale Mutua, partner del Festival e in particolare della disputa. vorrei chiamare qui Esther Tornavac a chiederle se vuole farci un saluto. Grazie. Buongiorno, un saluto veloce, un ringraziamento da parte del Museo Storico Reale Mutua. Siamo in Via Garibaldi 22, siamo gratuiti per tutti e siamo museo. Siamo museo di impresa, come il nome indica, perché Reale Mutua crede fermamente che sostenere la cultura sia importante, assolutamente integrato anche nelle realtà di business. Se volete qualche informazione in più e gradite avere la nostra brochure o la nostra collezione dei libricini della notte degli archivi, ci trovate all'esterno. Ma speriamo di accogliervi in museo, non solo per quella che è la cultura di impresa, ma anche l'esperienza dell'inclusione, tema su cui noi concentriamo la nostra attenzione, in quella che consideriamo la restituzione di una storia di quasi 200 anni alla città che ci ha visto nascere. Grazie e auguri. Insomma, in bocca al bravo. Grazie, grazie, gentilissima. Dunque, ricordo ancora che i vincitori del torneo riceveranno dei premi messi a disposizione dalla Manifattura Aurora, Officina della Scrittura, Museo del Segno della Scrittura, che offrirà ovviamente strumenti scrittori, Fondazione Piemonte dal Vivo, che mette a disposizione dei biglietti teatrali, la libreria Luxemburgo, con buoni libri. E grazie ancora alla dirigente del liceo, Gioberti, l'ingegnere riempescatore, per il sostegno. Fuori programma all'interno del nostro gruppo, io sottolineo che tra noi la professoressa Guglielmo si occupa non solo della parte più stimolante della faccenda, cioè fare i titoli, presentare, eccetera, ma anche di cose molto concrete, come trovare i giudici, trovare le aule quando abbiamo la fortuna di poter fare le cose in presenza, eccetera. E tante volte ci siamo collegati via Zoom con lei, che era a scuola alle 8 di sera, dopo esserci stata dalle 8 di mattina. Grazie a tutti quanti i docenti per il loro incoraggiamento, sostegno, per avere anche loro impiegato molto del loro tempo, grazie a tutti gli studenti che ci aiutano all'organizzazione, grazie a tutte le scuole e ai loro insegnanti, che anche quest'anno si sono messe in gioco in questo dibattito regolamentato. Il ringraziamento più grande va al professor Ugo Cardinale, che si sobbarca alla gestione dell'intero festival e che potete solo immaginare, ma vi avvicinerete soltanto, che fatica si sobbarchi nell'organizzazione di questo festival, che ebbe l'idea originale di questa disputa, quindi senza di lui tutto questo non sarebbe possibile. Due cosette su che cosa succede adesso. Adesso dobbiamo sorteggiare il pro e il contro, perché questo dibattito, come sapete, adesso parlo un attimo quando i ragazzi sono nell'altra stanza, è formato pro o contro una determinata ipotesi, una determinata mozione. Ma non sanno ancora, oggi la mozione è, a chi ama non resta più alcuna libertà, se qualcuno vorrà amare non sarà mai libero, tratto dalla Lg23 del secondo libro di Properzio. Ma non sanno ancora, le due squadre, chi sarà pro o chi sarà contro. Quindi se mi fate salire due capitani... Solo come testimone, no, uno e uno. Allora, con molettoni da un lato che è tutto fit, dall'altro che è tutto c, d'accordo? Che squadra sei? Perzeglio. Perzeglio, allora facciamo il dobbetro, ok? Perzeglio, perzeglio P, perzeglio pro, e quindi... Piano, per fortuna, contro. Vi lasciamo dieci minuti con le vostre riflessioni e poi ci riveliamo. Perfetto? Buona preparazione. Dunque, intanto vi dico che cosa succede. Sì, sì, andate pure, prendo nota più o meno del tempo che abbiamo. E sì, perché sono una squadra, sì, perché sennò si preparano insieme e diventa brutto, se non pare brutto. Prego. Con calma, fate. Dunque, vi dico come funziona il pomeriggio. Anzitutto, noi abbiamo qui dei giudici. I giudici sono qui appunto per stabilire quale delle due squadre vincerà. I giudici di oggi, che naturalmente ringraziamo, sono Anna Maria Anzillotti, Ettore Lallo e Michele Zaio. Farà da moderatrice Emma Polsinelli, che inviterò dopo, da cui cederò la presidenza della lezione. Quando richiameremo le squadre, la moderatrice ricorderà loro brevemente le regole, perché il nostro dibattito è basato sul format del debate, però ha qualche piccola variazione sui tempi, così per adattarlo alla specificità della nostra competizione. Per ora, la cosa che invece posso dire io, che la gara durerà circa, diciamo, tre quarti d'ora, perché ci sono sei interventi da sei minuti, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, seguiti da due interventi da tre, uno e due, quindi più o meno fa tre quarti d'ora. Al termine del dibattito i giudici andranno a discutere nella stanza che adesso è presa dalle squadre per decidere la squadra vincitrice e il miglior oratore della giornata. Si tratta di un'operazione che a volte diventa tanto più complessa quanto più naturalmente le squadre sono equilibrate, quindi sono i casi in cui i giudici ci mettono tanto, si rompono amicizie secolari, insomma si arrivano qui con un occhio nero, insomma si vede che hanno litigato moltissimo. Alla fine i giudici torneranno qui, proclameranno la squadra vincitrice, la squadra vincitrice si ritroverà con noi domani alle 10.30 nella splendida cornice della Sala dei Mappamondi dell'Accademia delle Scienze che ci ospita sempre, insomma c'è sempre ospitato tutti gli anni tranne naturalmente le interruzioni recenti. Altre informazioni fondamentali qua non ne ho, se non che il tema di oggi che è quello sulla libertà dell'amore, insomma se l'amore rende schiavi o no, deriva da questo distico di Lucrezio che libertà scuoniam nulliam restat amanti nullus libererit sicquis amare volet del 23esima del secondo libro, su cui naturalmente non vi dico nulla perché anche solo inconsciamente influenzerei i giudici in qualche modo. Se volete andarvelo a vedere, andate a vedere, poi naturalmente Properzio aveva le idee sue e vedremo quali saranno le idee di queste due squadre. Cose da dire, io direi che per il momento possiamo probabilmente fare una brevissima pausa di 3-4 minuti, insomma per non allungare il brodo tanto per allungarlo e ci vediamo qua fra appunto 5 minuti direi. Mi è stato detto che posso togliere la mascherina, così forse si sente meglio. Allora, adesso mi è anche stato chiesto di ridire il regolamento, in particolare come si svolgerà questo ribattito. Ricordo che inizierà la squadra pro con un intervento, gli interventi saranno 3, saranno di 6 minuti, il primo e l'ultimo minuto saranno dei minuti protetti, quindi non potranno essere fatte domande e all'inizio dei 6 minuti il campanellino sarà suonato due volte e per indicare i minuti protetti solo una volta. Il dibattito si svolgerà un intervento pro seguito da uno contro, il secondo intervento pro, il secondo intervento contro, il terzo intervento pro, il terzo intervento contro, poi la replica sarà fatta prima dalla squadra contro e poi dalla squadra pro. La replica dura 3 minuti e è totalmente protetta, non si possono fare point. In questo caso, visto che siamo tornati in presenza, ricordo che i point si possono fare alzando la mano, perché online era più complicato capire come farli, quindi basta alzare la mano e farsi vedere bene, ovviamente. e poi la squadra che sta parlando può decidere se accettarli o meno. Adesso direi che, visto che abbiamo ripassato le regole, si può iniziare. Il primo speaker della squadra pro potrà partire quando sentirà il campanellino battere due volte. Il primo speaker della squadra pro può iniziare. Buongiorno a tutti, sono Emanuele Littrani, primo speaker della squadra pro. La mozione che dibatteremo oggi è la seguente. Ha ragione properzio. A chi ama non resta più qualsiasi libertà. Se qualcuno vorrà amare, non sarà mai libero. Vorremmo quindi definire i concetti fondamentali. Chi ama lo intendiamo come l'amante in senso elegiaco, quindi chi ama di un amore non ricambiato e che soffre senza possibilità di emanciparsi in alcun modo dall'oggetto d'amore. La libertà, invece, è la possibilità di autodeterminarsi e di essere indipendente. È libero solo colui che è in grado di affermare la propria indipendenza. Per definire l'amore vorremmo rifarci alle parole di properzio. Un Dio crudele che mi opprime il capo e che mi costringe a condurre una vita priva di ogni saggezza. Quindi l'amore è una passione dell'individuo che inevitabilmente riduce l'uomo alla passività e ad un tormento interiore. Bisogna considerare la passione anche dal punto di vista etimologico. Deriva infatti da passus, participio passato al verbo passior, che letteralmente significa proprio subire, sopportare, essere passivo. Questa dimensione della passività, a livello poetico, assume i caratteri dell'amore inteso come furor, cioè follia, o addirittura come nosos, cioè malattia. La nostra tesi è la seguente. Riteniamo che l'amore si dia sempre come un rapporto di dipendenza dell'amante dall'amato, poiché esso si configura come un'unione vincolante e asimmetrica di due individui che sono spinti da tale vincolo sono spinti a tale vincolo come risposta irrazionale alla passione amorosa. I principali punti argomentativi attraverso cui si snoderà le nostre argomentazioni, il nostro dibattito, sono tre. Il primo chiama in causa i modelli antichi, quindi Properzio e Catullo, dell'amore che vede in forme differenti una dipendenza dell'amante dalla donna amata. Il secondo punto è una discussione di carattere psicoanalitico in merito all'amore, inteso come rapporto di oggettivazione reciproca, quindi come desiderio di dipendenza, che porta in ultima istanza l'amante all'alienazione. Il terzo ed ultimo punto che tratteremo è scientifico, scientifico, quindi l'amore che implica una dipendenza fisiologica dell'altro. Nella produzione elegiaca di Properzio, l'amore è da intendere come la passione totalizzante dalla quale l'uomo non può emanciparsi in alcun modo. È una passione che genera tormento, genera una dipendenza assoluta dell'individuo dalla donna amata. La donna amata trascura l'amore del poeta e allo stesso tempo trae godimento dalla condizione dell'amante e una condizione di estrema passività, potremmo dire di servitù. Questo porta ad una vera e propria forma di abiezione dell'amante che si ritrova a comportarsi in maniere che lo avviliscono. Si instaura quasi un meccanismo di alienazione per cui l'amante si estranea a se stesso. Solo quando si compie la cosiddetta renunziazio, amoris, può ritornare effettivamente la libertà e l'uomo riacquista la propria indipendenza dall'amato. In Catullo l'amore è simile in quanto mette in luce un rapporto di indipendenza, anche se in questo caso l'amore non è totalmente unilaterale come per Properzio. Inoltre la dipendenza amorosa, la dipendenza dall'amata per Catullo è assolutamente giustificabile poiché gratifica l'amante più di quanto potrebbe gratificare la libertà che deriva dall'indipendenza da un vincolo amoroso. Ma noi siamo qui non per dibattere su una possibile gratificazione che può derivare dall'amore. Siamo qui per dibattere della dipendenza stessa dell'uomo dal vincolo d'amore che in Catullo è più che evidente. In particolare, tale dipendenza si rende manifesta nel momento del tradimento. Catullo dice infatti Quindi una tale ingiuria, cioè il tradimento, spinge l'amante ad amare di più, ma ne spegne l'affetto. Quindi, sebbene l'amante si senta lontano a livello affettivo dall'amata, non riesce a staccarsene veramente e anzi cerca di costruire un legame quasi tossico, potremmo dire, un legame di vera e propria oggettivazione. Di vera e propria oggettivazione. Quindi l'amante ha perduto del tutto la propria indipendenza a favore dell'altro, dal quale ora dipende completamente. Quindi, come ci insegna Catullo, la dipendenza dell'amante dall'amato non è una conseguenza possibile di un rapporto amoroso, ma è la condizione intrinseca all'amore stesso. Grazie dell'attenzione. Grazie mille. Lo speaker ha parlato 5 minuti e 53 secondi. Lo ripetiamo per i giudici, per chi non lo sapesse. Adesso volevo lasciare due secondi ai giudici, ovviamente, per finire di segnarsi i loro appunti. Grazie. Bene, adesso se i giudici sono pronti e i speaker anche, lascerei la parola al primo speaker della squadra contro la mozione a ragione e properzio. A chi ama non resta alcuna libertà, se qualcuno verrà male non sarà più libero. Lo speaker può iniziare a parlare, ovviamente, appena senti due campanelli. Buongiorno a tutti, io sono Irene Zanelli, il primo oratore della squadra CONTRA. Oggi, come hanno detto i nostri colleghi, siamo chiamati a discutere la mozione a chi ama non resta più alcuna libertà. Se qualcuno vorrà amare, non sarà mai libero. Bene, io e i miei compagni non siamo assolutamente d'accordo e crediamo che properzio abbia torto. Infatti, noi sosteniamo che a chi ama non viene assolutamente meno la libertà. Prima, però, di parlare delle nostre argomentazioni, concedetemi di fare un piccolo contesto e di delineare la nostra linea argomentativa. Il servizio Mamoris rientra in un codice letterario, quello elegiaco, che risponde a temi e sentimenti convenzionali. In esso, il poeta, come è stato detto, è del tutto soggiogato alla domina, soffre per il comportamento dell'amata, che quasi sempre è freddo e scostante, quando non padesemente fedifrago. Insomma, noi crediamo che l'amore elegiaco di cui parla properzio risponda solamente a convenzioni letterarie fittizie e rigide del tutto svincolate dalla realtà e per questo motivo non possa essere preso ad esempio in una discussione amorosa. Partendo dal presupposto, quindi, che non possiamo utilizzare questo amore artefatto e convenzionale come basamento della nostra discussione, mi accingo ora a tracciare la nostra linea argomentativa, che appunto tratterremo nei nostri prossimi interventi. Dopo un breve chiarimento dei significati che abbiamo attribuito ad alcuni termini della mozione, ribadiremo con forza come la libera scelta sia il necessario fondamento di una relazione d'amore, distinguendo un amore maturo, un amore autentico, da quelle relazioni simbiotiche di cui parleremo in seguito. Inoltre, ribadiremo come si debba conservare il carattere di reciproco rispetto e gratuità nelle relazioni amorose. Appoggiandoci poi dunque alla posizione della psicologia moderna, sosterremo che quando la relazione amorosa si fondi sulla gelosia, sulla prevaricazione, essa non possa essere definita amore, bensì dipendenza amorosa. Infine, ammettendo anche che l'uomo possa essere in qualche modo vincolato nella realtà, sosteniamo che l'amore non sia affatto un vincolo a cui l'uomo è sottomesso, ma al contrario ci sproni a superare alcuni dei vincoli che sono connaturati alla nostra condizione umana. E infine, collegandoci particolarmente al neoplatonismo, sosteniamo che l'amore sia l'unico mezzo attraverso cui l'uomo possa raggiungere la piena realizzazione. Bene, è importante precisare che l'amore di cui noi parleremo oggi è una definizione che noi abbiamo preso dall'Oxford Dictionary, e cito testualmente, un legame tra persone che assicura vera e reciproca felicità. Sottolineiamo ancora una volta come il carattere di reciprocità sia l'elemento caratterizzante del termine amore. Questo ci porta dunque ad escludere, scusate, quando parliamo di amore in maniera corretta, di tutte quelle relazioni che abbiano una componente di possesso, di gelosia o di dipendenza. Queste, noi crediamo, siano solamente passioni che l'uomo subisce di cui non ha alcun controllo. L'amore autentico è un atto propriamente umano, un'azione, una potenzialità che può essere espressa solamente nella libertà. Di conseguenza, la relazione descritta da Properzio non può essere certo definita amore, bensì unione simbiotica. A sostegno di questa nostra tesi portiamo le parole dello psicologo Eric Fromm, che scrive nel suo saggio l'arte di amare, ciò che adesso vi cito. In contrasto con l'unione simbiotica, l'amore maturo ha condizione di preservare la propria integrità e la propria individualità. L'amore autentico, quello maturo, l'amore vero, con la A maiuscola, non solo non limita la libertà dell'uomo, ma deve ergersi a custode della libertà del soggetto amato e anche dell'alterità dell'oggetto amato. Insomma, l'amore, quello autentico, scusate un attimo, deve garantire uno scambio gratuito ed equilibrato del dare e del ricevere. Prego. Grazie. Voi avete parlato di soggetto amante e oggetto amato, ma se parliamo di un oggetto amato, che possiamo parlare di affermazione dell'indipendenza del soggetto nel momento stesso in cui parliamo dell'oggetto amato? Grazie. Grazie per le vostre belle parole che non fanno altro che confermare quello che ho appena detto. Cioè, noi intendiamo oggetto amato perché non limitiamo l'amore solamente nel campo relazionale tra due persone. Come i miei colleghi spiegheranno in seguito, l'amore può anche essere per un oggetto o per un ideale o addirittura l'amore per Dio. Quindi noi abbiamo deciso di ampliare il campo. L'unica restrizione che noi mettiamo è che l'amore non debba creare dipendenza perché in effetti, come è scritto nella definizione, l'amore deve portare reciproca felicità. Dunque, io vi domando al contrario, possiamo affermare che esista un qualche legame tra un'eventuale perdita della libertà e l'amore. A sostegno di queste nostre parole portiamo Sant'Agostino che nel commento alla lettera di Giovanni Omelia 7 dice ama e faccio che vuoi. Dunque, tra l'amore e un'eventuale perdita della libertà non ci sarebbe alcun nesso. Ma come vi abbiamo anticipato all'inizio della nostra linea, noi ammettiamo che l'uomo in effetti nel corso della sua vita sia posto davanti a delle limitazioni che sono magari legate al contesto storico, alla cultura in cui vive. Ma l'amore non fa parte di esse. Al contrario, l'uomo non è mai non libero perché ha sempre la possibilità di scegliere come affrontare queste limitazioni e nell'amore queste limitazioni non ci sono e della scelta più libera perché in amore l'uomo è totalmente libero di decidere di amare oppure no. Sono forse imprigionato in una relazione. Una volta che io decida di iniziare una relazione sono forse condannata a restarci per sempre? Ovviamente no, è dimestrato dall'esperienza empirica perché in ogni secondo io potrei decidere di svincolarmi, di divorziare o di modificare i termini in cui io amo l'altra persona. Concludo dunque dicendo che come potremmo definire non libero qualcuno che possa in ogni momento liberarsi dalle proprie catene? Grazie. Grazie mille. La speaker ha parlato sei minuti e tre dici secondi. Adesso, come sempre, lasciamo giusto qualche secondo poi quando i giudici ci dicono che sono pronti continuiamo. Grazie. Perfetto, allora adesso lascio la parola al secondo speaker della squadra a favore della mozione. Come sempre, non sto più a ripetere ormai del campanellino, penso che avete capito. Buongiorno a tutti, sono Federico Pellegrino, secondo speaker a favore della mozione proposta. Vorrei iniziare il mio intervento notando come la squadra nostra avversaria non abbia discusso le nostre definizioni in quanto tale si dà per scontato che le abbiano accettate. Hanno tuttavia precisato la definizione d'amore e quindi appunto sulla questione dell'amore siamo fondamentalmente convenuti in quello che abbiamo detto. Per quanto riguarda le altre definizioni invece prendiamo per buone le nostre in quanto non c'è stata una discussione in merito. Detto questo i punti fondamentali portati avanti dalla prima speaker contro hanno preso in considerazione la relazione tra soggetto amante e oggetto amato e questo sarà un punto fondamentale del nostro dibattito odierno infatti ne parleremo anche noi e poi soprattutto hanno parlato di amore come schiavitù in senso stretto che si dà a livello poetico in Properzio questo è vero ma tutto riguarda la finzione letteraria di Properzio dalla quale la critica più intelligente si cerca di emanciparsi e cerca di reinterpretarla. Quello di cui si può parlare non è di una schiavitù di un essere imprigionati nell'amore cito testualmente la prima speaker contro ma di una dipendenza ecco quello che noi vorremmo dimostrarvi al di là di qualsiasi ragionamento di carattere moralistico è che la dipendenza dell'amante dal legame d'amore c'è ed è effettiva indipendentemente se questa dipendenza sia gradita all'amante oppure se sia motivo di tristezza e schiavitù effettivamente questa dipendenza alle volte gradita alle volte invece prende le forme assume le forme di un tormento come ad esempio quella di Catullo loro hanno parlato solo dell'amore nella finzione letteraria di Properzio senza appunto emanciparsi da questa finzione letteraria e senza considerare in alcuna maniera la discussione che avevamo fatto noi di Catullo bene passiamo pure alla nostra prima questione la relazione tra soggetti e oggetti di cui hanno parlato anche i nostri sfidanti e faremo riferimento al seminario del filo del psicanalista Lacan dal titolo Il Transfer l'anno accademico 60-61 all'interno di questo seminario lo psicanalista Lacan ci domanda ci pone fondamentalmente la domanda che cosa sia l'amore ecco in primo luogo ci viene detto l'amore si dà come un soggetto amante che guarda all'amato e guarda quest'amato come all'oggetto del proprio desiderio ovvero in primo luogo l'amore si dà come un amante che guarda un oggetto del desiderio a sua volta affinché il rapporto d'amore si possa dire compiuto il soggetto amante desidererebbe divenire lui stesso oggetto del desiderio della persona amata così che effettivamente l'amore possa compiersi in un rapporto e quindi in ultima istanza l'amore la ricerca della passione amorosa il rapporto d'amore in sé si dà come una volontà da parte di chi ama di divenire oggetto dell'amore dell'altro prego se da parte di chi ama c'è una volontà come potete affermare che colui che ama perde ogni libertà perché perdendo ogni libertà non dovrebbe anche la libertà di poter decidere di diventare sì grazie noi non abbiamo mai parlato di perdita di tutte le libertà voi avete sempre messo l'accento su assolutamente su tutte queste cose noi parliamo di una dipendenza abbiamo definito inizialmente cosa intendiamo noi per libertà e voi avete accettato le nostre definizioni la libertà fondamentalmente si dà come indipendenza e quindi la perdita di libertà si dà come dipendenza ok quindi questa dipendenza di cui noi stiamo parlando effettivamente si può dare come una spersonificazione della persona che da soggetto amante desidera si sente spinto dalla passione amorosa a voler divenire oggetto del desiderio della persona amata ci dice Lacan questo porta l'individuo in una condizione di alienazione questo porta l'individuo a divenire effettivamente dipendente in quanto oggetto della persona amata ripeto il nostro non è un discorso di carattere moralistico noi non vogliamo dire l'amante è felice per questa dipendenza l'amante non è felice per questo suo voler essere oggetto noi vogliamo partire da un discorso di carattere dialettico da un discorso di carattere psicanalisti di psicanaligi e fondamentalmente vogliamo dire questa dipendenza effettivamente c'è ma se non foste ancora convinti vi portiamo avanti questo nostro terzo argomento che fondamentalmente parla della dipendenza fisiologica di chi ama dall'amore stesso infatti chi è innamorato produce a livello ormonale gli stessi ormoni che produce chi assume cocaina chi assume cocaina infatti dipendente naturalmente che è una persona naturalmente dipendente secerne all'interno del proprio organismo dopamina adrenalina e ossitocina che sono quegli ormoni che sono responsabili di quello stato di euforia quello stato di pienezza spirituale che sentiamo a seguito dell'assunzione di droghe nello specifico della cocaina questa è una discussione di carattere puramente scientifico che dimostra che anche dal punto di vista fisiologico chi ama sia effettivamente dipendente dalla persona amata quindi una discussione di carattere dialettico l'amante che vuole divenire oggetto del desiderio dell'amato e quindi dipendente da esso e una discussione di carattere anche fisiologico vi ringrazio per l'attenzione grazie mille per l'intervento lo speaker ha parlato sei minuti e sei secondi grazie mille adesso lascerei la parola al secondo speaker della squadra contro buongiorno sono Maddalena Luca il secondo oratore della squadra contro la mia squadra e io siamo convinti che Properzio abbia torto e che chi ama non è affatto limitato nella sua libertà inizio commentando quello che ha detto l'oratore della squadra contro e innanzitutto noi abbiamo definito i termini della mozione illustrando le nostre definizioni la mia compagna ha dato la nostra definizione di amore e ha specificato che per noi l'amore si fonda su un carattere di reciprocità e che quindi quando si parla di dipendenza non si può assolutamente parlare di amore anzi quando parliamo di dipendenza stiamo parlando di un'unione simbiotica e che quindi presuppone che non sia un rapporto equilibrato esiste in natura esiste ma non è possibile chiamarlo amore inoltre voi continuate a rifarvi a properzio ma non capiamo come possiate credere che properzio sia un basamento utile per fare una riflessione sull'amore reale properzio si rifà a una convenzione fittizia e non possiamo prendere spunto da lui per parlare di amore quindi noi abbiamo definito si prego si grazie voi avete detto che noi ci rifacciamo esclusivamente a properzio e continuiamo a rifarci a properzio quindi non prendete in considerazione le nostre argomentazioni rispetto al pensiero di Lacan e rispetto alla questione scientifica adesso ci arrivo tra un attimo quindi noi abbiamo definito che l'amore significhi amare qualcuno dal profondo della propria essenza e sentire di essere amati dall'altra persona dal profondo della propria essenza e soprattutto quando voi parlate di dipendenza anche se avete presentato argomentazioni di tipo scientifico trascurate un fattore che anche properzio scrive nella mozione cioè il fattore della scelta l'amore è una scelta libera e consapevole e essendo una scelta non si può pensare che limiti il soggetto in qualche modo e l'amore è una scelta che va rinnovata ogni giorno noi ogni giorno facciamo una scelta d'amore e come la facciamo possiamo anche revocarla possiamo in ogni momento decidere di sottrarci alla nostra scelta d'amore quindi quando scegliamo di amare è il fattore di intenzionalità che ci rende liberi e parlando sempre di un amore che non si limita ovviamente al contatto fisico e all'attaccamento emotivo che è quello che avete descritto voi noi diciamo non solo che l'amore non è una limitazione ma che è anche un mezzo attraverso il quale l'uomo può elevarsi dalla propria condizione e superare alcuni degli altri vincoli che lo tengono costretto in questo senso è opportuno menzionare il grande filosofo Platone che ha parlato di una scala d'amore cioè ha sostenuto che l'amore proceda per gradi come attraverso una scala sempre più in alto a partire dalla bellezza dei corpi per raggiungere alla contemplazione del bello in sé attraverso la visione di questo bello l'uomo riesce a elevarsi e a superare i propri limiti terreni e a raggiungere la virtù e la realizzazione come individuo e l'amore però è una liberazione dai limiti dell'uomo anche in una dimensione più terrena Amando io mi libero dall'egoismo per esempio che è il carcere dell'io se io non sono ripiegato su me stesso e non mi preoccupo soltanto dei miei bisogni ma prendo in considerazione anche le necessità della persona amata riesco a liberarmi dall'istinto dalla schiavitù dell'istinto che spinge l'uomo a preoccuparsi solo dei propri bisogni e oltretutto quando siamo alla presenza di qualcuno di cui ci fidiamo e che sappiamo che ci stima e ci ama nonostante tutto ci sentiamo liberi per esempio di essere e di mostrarci secondo la nostra vera natura in maniera spontanea e autentica appunto ma noi per adesso abbiamo parlato soltanto di amore erotico cioè un legame di natura esclusiva tra due o più persone ma prendiamo per esempio in considerazione l'amore genitoriale cioè quello che spinge una coppia a prendersi la responsabilità di procreare un figlio due persone potrebbero scegliere di avere un figlio perché prendersi cura di una creatura libera due genitori dal vincolo umano della morte noi tutti siamo limitati dalla morte se non ti piace finisco un attimo spero di chiarire il tuo dubbio più tardi quindi noi tutti siamo limitati dalla morte ma procreando noi trasmettiamo qualcosa a un figlio che ci fa il dono dell'immortalità quindi abbiamo chiarito che l'amore non è soltanto una scelta completamente libera dell'uomo che quindi non rappresenta nessun vincolo per lui ma è oltretutto un modo di liberarsi degli altri vincoli escluso amore che tengono soggiogato l'uomo e quindi noi siamo certi che in questo senso Properzio abbia torto lui non intende un amore vero che libera e intende amore come catene ma amore non può essere catene amore è ali ali che ci sollevano dal suolo e ci fanno spiccare il volo grazie grazie mille l'oratrice ha parlato 5 minuti e 55 secondi l'oratrice Grazie a tutti. 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 ricambia, quello non è amore, per forza non esiste, quello non è amore, è un'altra cosa per voi, comunque parlando proprio di amore, voi nell'ultimo intervento avete parlato di amore filiale, ma non starò nemmeno a criticare quello che avete detto lì, perché secondo me è completamente fuori dalla nostra mozione, nel senso che noi stiamo dibattendo all'interno di qualcosa che è contestualizzato, non è solo una frase a caso, è l'amor di properzio, quello di cui dobbiamo parlare, possiamo uscire, parlare di amor in generale, ma comunque dobbiamo ricordarci le radici da cui stiamo partendo, quell'amore lì è solo un amore romantico, non è un amore che può andare avanti e diventare amore filiale o amore verso Dio, quali sono altri tipi di amore che non c'entrano con l'emozione che noi stiamo portando avanti. Poi vorrei ancora specificare che, appunto, questi sono i punti principali di cui volevo parlare adesso, e tardi vorrei riprendere un attimo quella che è la nostra mozione, così da avere di nuovo un filo conduttore e, diciamo, riporre ordine in quello di cui abbiamo parlato. La nostra tesi è che riteniamo che l'amore si dia sempre come un rapporto di dipendenza dell'amante dall'amato, dal momento che esso si configura come unione vincolante e assimmetrica di due individui, che sono spinti a tale vincolo come risposta irrazionale alla parsione amorosa. Detto questo, io cedo la parola al terzo speaker della squadra Contro e concludo la mia argomentazione. Grazie mille per l'intervento. Sì, l'oratore ha parlato 5 minuti e 55 secondi. Adesso lascio la parola al terzo oratore della squadra Contro. Saluto, ringrazio i giudici, i colleghi della squadra avversaria. Intanto mi presento, sono Nicolò, il terzo oratore della squadra Contro. Il mio ruolo all'interno del dibattito sarà quello di riassumere brevemente i capisaldi su cui poggia la nostra linea argomentativa e di anche fornire una confutazione della validità delle argomentazioni sostenute dai nostri avversari. Ma procediamo per ordine. Qui innanzitutto abbiamo fornito un'analisi dei termini latini utilizzati da Properzio nell'Eleggia 23 da cui la mozione trae spunto e da cui voi anche della squadra Pro vi riconducete. Avete detto di dare ragione a Properzio parlando di una mancanza di scelta all'interno dell'amore. Tuttavia al contempo state anche criticando e un po' andando in antitesi a quanto viene scritto da Properzio con i verbi latini. Infatti utilizza il verbo volo che è inserito oltretutto in un periodo ipotetico che allude indubbiamente ad una libera scelta e che pertanto non prevede un'assoluta mancanza di libertà, differentemente da quanto indicato nella mozione in italiano che afferma sostanzialmente che nessuna libertà rimarrà a chi vorrà amare. Successivamente poi riconducendoci al contesto elegiaco e Properziano abbiamo anche sottolineato il fatto che quella del servizium amoris non sia altro che una convenzione letteraria, un codice assai lontano dalla realtà effettiva per così dire. Infatti le caratteristiche volubili, capricciose che Properzio addita alla sua cinzia non sono altro che canoni fittizi, convenzionali, letterari. Abbiamo di poi spiegato come l'idea stessa di relazione amorosa concepita dai poeti elegiaci sia ben differente dal vero concetto di amore, quello comunemente accettato dalla psicologia moderna, secondo cui non è affatto previsto una sorta di annullamento a cui voi vi riconducete di uno dei soggetti coinvolti nel rapporto. Secondo quest'ottica dunque noi sosteniamo fermamente che la mozione non proponga assolutamente un ideale che propriamente potrà essere considerato amore, ma che sia al contrario riconducibile alla cosiddetta dipendenza affettiva, così come viene descritto nel dizionario di psicologia di Umberto Galimberti, lo cito testualmente, che indica una modalità relazionale in cui un soggetto rivolge continuamente agli altri per essere guidato. L'individuo indipendente, scusate, è incapace di prendere decisioni senza un incoraggiamento esterno. Ecco, converrete dunque che questa tipologia del rapporto leda indubbiamente la libertà di scelta, ma anche di azione dell'individuo ed è in forte antitesi quindi con la definizione stessa di amore, che prevede invece che ognuno mantenga, anzi forse avvalori anche, prego. Sì, grazie. Volevo chiedere, voi dite che quello posto nella mozione non è amore, ma le parole dicono chiaramente a chi ama, magari l'amore non sarà l'amore che intendete voi, ma è comunque una forma d'amore, non può non essere per amore, o così intendete perché forse non abbiamo capito noi, grazie. Esatto, come appunto detto anche dai miei colleghi, noi per amore intendiamo, prendiamo in considerazione una definizione basata sulla psicologia moderna, poiché quella, l'idea di amore, prego. Sì, voi avete detto di prendere in considerazione una definizione di amore basata sulla psicologia moderna, quindi qualsiasi forma d'amore che non inerisca la psicologia moderna, voi non la considerate come amore? L'abbiamo considerata, abbiamo considerato anche la definizione che viene data dal vocabolario, non abbiamo preso in considerazione invece quella definita da Properzio, dai poeti e legiaci solamente per il fatto che non sono attinenti alla realtà, ma rappresentano dei canoni fittizi, quasi delle regole, delle caratteristiche fisse, sia lesbia sia cinzia invece di Properzio, sono volubili, sono restie nei confronti dell'amato e lo soggiogano quasi. Orbene, come Sartre invece acutamente asserisce la vera forma di amore, la forma più alta di libertà, sia liberi di appartenersi, liberi di scegliersi, liberi di condividere una porzione di vita o una vita intera. Un attentico rapporto d'amore comporta quindi il prendersi cura anche della libertà e della finezza dell'altro. Orbene riflettete se il vero ed effettivo concetto di amore sia mai assimilabile ad un vincolo. Non si rischierebbe di fraintendere il vero senso di amore, non si cadrebbe forse in contraddizione. Ma se non foste ancora pienamente convinti, prendete allora in considerazione la logica riflessione sull'uomo del filosofo tedesco Karl Jaspers. Egli infatti giunse alla conclusione che la libertà costituisce come un attributo, intrinsecamente legato al principio di esistenza stessa dell'uomo, un principio della sua essenza. Lui scrive nella sua filosofia, scusate, scelta è l'espressione che indica la coscienza che io ho, che decidendomi non mi limita ad agire nel mondo, ma forgio la mia propria essenza nella sua continuità storica. La libertà, pertanto, non è un mezzo per l'esistenza, ma coincide con quest'ultima. Da ciò ne deriva che ognuno di noi, in qualsiasi contesto, conserva la propria libertà nell'amore, anzi la realizza in tutta la sua paienezza. A chi ama resta la libertà, chi vorrà amare sarà libero. Grazie. Grazie per l'intervento. L'oratore ha parlato sei minuti e sette secondi. Visto solo i giudici che l'oratore che terrà la replica della squadra contro è Irene Zanelli, la prima oratrice. Lascio la parola. Bene, buongiorno a tutti di nuovo. Ci dispiace infinitamente che la nostra definizione sia rimasta inascoltata, nonostante sia stata ripetuta diverse volte. Non abbiamo assolutamente mai detto che l'amore non reciproco non possa essere considerato amore, ma al contrario abbiamo detto che un amore che non garantisca una reciprocità di felicità non possa essere considerato amore. Quindi dobbiamo escludere tutte le dipendenze che portano un assoggettamento, una perdita della libertà della persona. Questo non può per noi essere considerato amore e non solo per noi ma da definizione, che ci siamo sentiti di condividere. E quindi voi ci state in qualche modo chiedendo di definire e di chiamare con il nome di amore qualcosa che amore non è, a cui noi abbiamo dato un altro nome che è rimasto inascoltato e cioè quello di dipendenza amorosa. Voi avete citato in realtà la parola dipendenza in questo contesto, avete detto che l'amore suscita le stesse reazioni chimiche e ormonali della dipendenza da cocaina, ad esempio. Purtroppo state sottovalutando un aspetto fondamentale e cioè la costanza. È evidente che se io fumassi una sola sigaretta non mi succederebbe niente, non diventerei dipendente dal fumo. Se io invece fumassi un pacchetto di sigarette al giorno lo diventerei. La costanza è ciò che fa diventare la dipendenza tale. Cioè l'amore manca di questa fondamentale caratteristica perché l'amore è mutevole, cambia sempre, una situazione non si ripropone mai allo stesso modo perché in amore coesistono due soggetti che sono liberi di agire come vogliono e per questo non ripresentano mai, non sono automi che agiscono secondo un codice predefinito. Quindi noi ci allontaniamo totalmente da quello che voi definite amore e assolutamente non condividiamo la definizione che avete dato e riproponiamo. Ci dispiace che sia rimasta in ascoltata la nostra. Inoltre vogliamo ribadire come non possiamo considerare amore, al di là della definizione, l'amore proposto da properzio, al di là del termine amore utilizzato, perché è una finzione letteraria. Cioè l'amore elegiaco è a caratteri fittizi, è convenzionale. Non è perché solamente è stato scritto in un libro significa che sia vero. Quante cose sono state scritte in libri non lo sono. Avete parlato del dolce stil novo. Prendiamo Dante. Dante parla di amore, ma non sappiamo se Beatrice sia veramente esistita e non sappiamo, quasi certamente no, se Dante abbia effettivamente viaggiato nell'oltre tomba attraverso inferno, paradiso, eccetera. Ma dunque, se voi prendete per vero e per assolutamente inattaccabile ciò che è scritto in un libro, che è dimostrato da studiosi e filologi essere una finzione letteraria, a un topos che si ripercuote solamente per un codice, ci dispiace, forse non parliamo la stessa lingua. Inoltre vorremmo... va bene, grazie così. Grazie a tutti. Grazie mille per il tuo intervento. L'oratrice ha parlato tre minuti. Grazie mille per il tuo intervento. Adesso lascio la parola a Federico Pellegrino, l'oratore che terrà la replica della squadra Pro. Bene signori, eccoci giunti dunque anche alla nostra ringa. Bene, innanzitutto vorrei riflettere sul fatto che gli avversari non abbiano fondamentalmente confutato molti degli aspetti centrali della nostra linea argomentativa. Vale a dire il rapporto tra soggetto e oggetto, che è stato preso in considerazione dalla loro prima speaker che io successivamente ho confutato e ridiscusso e che nuovamente non è stato più preso in considerazione. In particolare l'arringa adesso, l'arringatrice, ha detto che l'amore è un rapporto tra soggetto e soggetto, ma prima loro stessi hanno detto che l'amore è un rapporto tra soggetto amante e oggetto amato. Questo stesso rapporto tra soggetto amante e oggetto amato, questo volere dell'amante, di divenire oggetto del desiderio dell'amato, porta un'oggettivazione dell'amante e quindi, a sua volta, a una ricerca di dipendenza. Un altro punto connesso proprio a questo, che la squadra avversaria non ha compreso della nostra argomentazione, è la nostra idea di dipendenza. Noi non intendiamo la dipendenza come un qualcosa di deteriore, non abbiamo inteso la dipendenza come una schiavitù, proprio verso nella mozione non parla di schiavitù. Noi abbiamo inteso la dipendenza come un qualcosa di oggettivo, di effettivo, l'abbiamo dimostrato dal punto di vista psicoanalitico, l'abbiamo dimostrato dal punto di vista scientifico, fisiologico. Ecco, quindi questo vorremmo dire, il rapporto col moralismo che abbiamo avuto noi e la sua avversaria è stato assolutamente diverso. Loro argomentavano da un punto di vista morale, fondamentalmente l'amore non può essere dipendenza perché la dimendenza nega l'idea stessa di amore perché è deteriore, ma noi questo non l'abbiamo neanche preso in considerazione, la nostra non era un'argomentazione morale, ne volevamo semplicemente parlare di amore come effettiva dipendenza. Anche dal punto di vista fisiologico, altro punto di scontro, che gli avversari si sono degnati di prendere in considerazione esclusivamente nella ringa. Nessuno, prima neanche il terzo speaker, che deve confutare tutte le argomentazioni dei precedenti speaker della scuola avversaria, ha preso in considerazione l'argomentazione fisiologica. Poi hanno, nell'intentativo di confutare l'argomentazione fisiologica, hanno parlato di dipendenza da sigarette, che hanno fondamentalmente detto che se una cosa non si ripete spesso allora non può portare alla dipendenza. Ma quello che abbiamo portato avanti noi non era un qualcosa di discutibile a livello di ragione scientifica, questo ce lo insegna la scienza. Alla vista della amante, della persona amata, alla vista, alla semplice estetica della persona amata, il semplice odore chimico della persona amata, porta l'individuo amante a produrre degli ormoni che sono gli stessi che sono prodotti a seguito dell'assunzione di cocaina, degli ormoni della dipendenza. Hanno poi parlato della definizione d'amore, noi non l'avremmo presa in considerazione. L'abbiamo discusso praticamente in tutti gli interventi, abbiamo dedicato i nostri point alla discussione dell'amore e loro l'hanno intesa come la Bibbia, parlando peraltro di un amore molto attuale che non prendeva assolutamente in considerazione qualsiasi forma di amore precedente. Grazie. Ringrazio l'oratore che ha parlato tre minuti e quattordici secondi. Adesso ringrazio tutti i ribattenti per aver dibattuto in questo ribattito e i giudici quando sono pronti possono essere accompagnati o dirigersi in una stanza per discutere delle loro tesi e aggiungere al risultato. Allora siamo in chiusura quindi ringrazio tutte le persone che sono qui, qui attorno e lì davanti. Ringrazio i giudici che fra poco ci daranno il loro verdetto. Dico subito che la squadra delle due che vince, come ho già detto, si troverà domani alle dieci e mezza nella sala dei mappamondi dell'Accademia delle Scienze. Dovrà vedersi con la squadra del Cavour. E intanto per concludere io vi invito a guardarvi intorno. Siamo in un bellissimo posto ma soprattutto siamo in un posto ed è una cosa bellissima perché abbiamo passato dei periodi in cui non ne eravamo in un po'. Prima ho fatto l'absus di dire a Matteo, l'anno scorso, l'anno scorso, no. E infatti la maglietta che ho sotto è 2020 by Stephen King che effettivamente è stato un momento terribile. Quest'anno abbiamo fatto le eliminatorie e le abbiamo fatte online e io ho visto voi, ho visto voi quindi e insomma non c'è paragone tra vederli nel quadratino e vedervi effettivamente dal vivo. Non sappiamo neanche bene se questa selezione effettivamente funzionava perché giudicare, c'è chi è più telegenico e chi non è meno telegenico, magari uno rende meglio in tv, rende peggio dal vivo, chi lo sa. Però siamo contentissimi di essere qui. Vedete che cosa succede? Gli accidenti come diceva Matteo Nucci quando si sta fermi, cioè ci si atrofizza, cioè tu non esci più di casa, ti si atrofizza l'idea di uscire di casa. Noi due anni fa questa sala ce l'avevamo piena e domani anche. Speriamo di tornarci e intanto ringraziamo tutti quelli che sono stati qua. A questo punto io lascerei il microfono alla giuria e chiederei loro di dirci quale delle due squadre ha vinto e quale è stato l'oratore o l'oratrice migliore della serata. Intanto vi ringrazio tutti quanti e buonasera. Buonasera a tutti. Io direi di presentarsi qui anche Anna Maria. Prego, vieni pure Michele. Noi abbiamo discusso, come sempre avviene, dobbiamo dire che siamo di fronte ad una semifinale e quindi non è stato così facile capire quale delle due squadre avesse vinto. Io devo dare un riscontro subito ai ragazzi per quello che riguarda il dibattito. Devo dire per ciò che riguarda il dibattito bisogna sempre avere chiara la struttura, questo è un facilitante per i giudici che devono ascoltare, ma altresì in senso positivo abbiamo sentito un dibattito in cui non si è trattato solo di classicità. C'è stato un approfondimento attento, attentissimo devo dire, filologico in alcuni casi, sulla mozione e sulle fonti latine, ma abbiamo sentito anche un'apertura interdisciplinare che guardava alla modernità così come deve essere. In fondo facciamo questo festival di cultura classica perché, come ci ha detto Nunci, dobbiamo sentire quanto questa classicità vive ancora oggi e in questo senso allora l'apertura è stata molto apprezzata. dobbiamo fare anche delle critiche e cioè quando si dibatte bisogna avere un terreno comune e la capacità degli speaker è quella di sentire la parte avversa e trovare qualcosa di comune per dibattere. non si può rimanere asserragliati nella propria posizione perché se no il dibattito langue. Altra questione, altresì importante, importantissima, che una cosa è l'argomento, una cosa è l'argomentazione. Le petizio principis, cioè rifarsi a una teoria senza argomentare perché questa teoria vale, proprio da un punto di vista concettuale, è problematico. Così come fare petizioni d'autorità, e cioè utilizzare delle citazioni, degli autori, delle teorie, senza poi spiegare perché queste valgono, ecco, può essere problematico. E nel dibattito è importante sentire l'argomento, ma poi la discussione concettuale che ci spiega, ci chiarisce perché quell'argomento è importante. Detto questo, credo che sia opportuno proclamare il vincitore. È stato difficile, per un minimo però c'è stata unanimità. Vincono i delfini pitici del liceo peano di Tortona. Io devo dire anche al liceo d'Azeglio che abbiamo avuto, i numeri sono stati proprio risicati, così come avviene normalmente in una semifinale. Devo dire che la questione fondamentale ha riguardato le petizioni di principio o le petizioni d'autorità. Non abbiamo potuto discutere troppo su questioni argomentative. Proclamiamo anche il migliore speaker, il migliore oratore di questa serata, che è Federico Pellegrino.